Aula consigliare di Mazzara del Vallo, 31 marzo 1946, oggi ultimo giorno di lavoro per i componenti del Consiglio Comunale, siamo con il dottor Roberto Frazzetta, oggi si chiude una pagina di storia per l'amministrazione comunale di Mazzara del Vallo e a breve se ne aprirà un'altra, con quali prospettive secondo lei? Si chiude per intanto una pagina di brutta storia per questa città, per le stesse attività del Consiglio Comunale che per molti versi è stato poco incisivo, non sto qui a dire i motivi in questa consigliatura, mi sarei augurato che questo Consiglio Comunale avesse potuto meglio incidere su quelli che sono stati i problemi che in quattro anni ha vissuto la città, non ci è riuscito, Speriamo che il prossimo Consiglio Comunale possa fare meglio. Ultima giornata di attività consigliare, convocata dal Presidente del Consiglio, dal Presidente Pietro Marino, intanto per darci i saluti come è usuale che si faccia in politica, proprio in direttura di arrivo del periodo della consigliatura e poi perché all'ordine del giorno sono previsti una serie di debiti fuori bilancio che a mio modesto modo di vedere devono essere tutti approvati per metterne le condizioni i cittadini creditori di questo e le imprese, i creditrici di questo Comune di poter incassare le somme utili e necessarie alla loro attività e alle proprie esigenze. Come prevede lo svolgersi di questa campagna elettorale? Che tipo di elezioni saranno? Come state procedendo voi con il vostro progetto? Ma questa campagna elettorale qui ci accingiamo ad affrontare è una campagna elettorale particolarmente difficile, non tanto perché difficile lo sia in quanto competizione amministrativa, assolutamente no, perché i candidati in campo sono parecchi e ognuno intende proporsi come meglio può. Io mi sarei augurato che nel corso della campagna elettorale, perché di fatto è già iniziata, lo stile e l'eleganza dell'uomo superasse le difficoltà in ordine agli schieramenti a cui ognuno dei candidati appartiene. Questo non si sta verificando, ci sono in campo candidati che stanno giocando sporco da un punto di vista politico. Per quel che mi riguarda io sto conducendo la mia campagna elettorale secondo il mio stile e in perfetta eleganza nel rispetto delle idee di tutti. Non intendo soffermarmi sul progetto di nessuno, intendo parlare del mio progetto amministrativo, cercando di somministrarlo alla gente nel miglior modo possibile, in maniera tale che le cose che dicono possono essere interpretate come certezze e non come promesse elettorale. Veda, questa città ha subito tante angherie nel passato, una delle quali io l'ho tirata fuori ed è stata tenuta nascosta per 30 anni la questione dell'Eni. Questa città è stata sistematicamente, periodicamente rapinata dei suoi averi potenziali. Io intendo riportare alla luce, come dire, la luce in questa città e consentire ad ogni cittadino di poter vivere non tanto di luce riflessa, quanto invece di risultati ottenibili attraverso intanto la rinegoziazione di questo famoso contratto con l'Eni e poi, perché no, della richiesta di un riconoscimento dei danni che la città ha patito nel passato. Certo, se mi limitassi a parlare solo di Eni sarei bugiardo con me stesso. Io ho un programma particolarmente articolato, nel mio programma c'è per esempio la realizzazione del quarto ponte, che voglio ricordare alla gente tutta, qualunque cosa dicano gli altri candidati e chi lo volesse può venire presso il mio quartiere generale a ritirare la documentazione originale che prova le cose che io dico. Il quarto ponte a Mazzara nascerà grazie al consigliere Frazzetta, perché sono stato il primo firmatario di un emendamento che prevedeva l'inserimento nel piano triennale. Quindi nessun altro candidato sindaco avocchi a sé il merito della realizzazione del quarto ponte. Ci sono gli atti che parlano chiari. I programmi poi sono tutti appetibili. Io mi auguro che la gente sia matura per ritornare alla conduzione della campagna elettorale, domanda che lei mi fece poco fa. Io mi auguro che la gente di questa città sia diventata nel frattempo matura, che possa saper discernere il bene dal mare, il migliore dal peggiore e votare in questo caso il miglior sindaco. La legge in questo senso lo consente. La stessa legge che prevede l'obbligatorietà del voto al sindaco la dice lunga su quello che può essere il controllo del voto. Dentro l'urna ognuno può fare qualche vuole, si legge la lista dei candidati e poi può scegliere tranquillamente. Se Roberto Frazzetta non piace, non va votato come candidato sindaco, se piace un altro va votato un altro, viceversa. Dovesse piacere Roberto Frazzetta per quel che dice, obbligatoriamente la morale impone che vada votato. Tornando a quest'ultimo Consiglio Comunale per concludere, tante questioni ancora aperte, tra cui la soprelevata, gli impianti idrici, eccetera. Quale, secondo Roberto Frazzetta, è quello che ai mazzaresi serve in maniera primaria? Guardi, per intanto bisogna dire le cose come stanno. A me piace essere onesto intellettualmente. La gente ricorderà i miei interventi in Consiglio Comunale molto ferri. Io sono stato un grosso oppositore dell'amico onorevole Nicola Cristaldi, per fatto politico, non certamente per fatto amicale. L'amicizia tra me e il sindaco Cristaldi c'è sempre stata, rimane. Mi auguro possa rimanere nel tempo scalfita, come dire, nella mente sia del sottoscritto che dello stesso onorevole Cristaldi. Io intendo essere amico di tutti, il problema non si pone. Devo intellettualmente essere onesto con me stesso, perché una cosa è fare attività politica dentro al Consiglio Comunale, una cosa è ammettere invece le cose che poi sono accadute. Una serie di questioni rimaste irrisolte da parte dell'attuale amministrazione comunale del sindaco Cristaldi non vanno, secondo me, addebitate all'onorevole Cristaldi, ma vanno addebitate a una serie di congiunture, verificatesi nel tempo, volute dalla politica nazionale e regionale della Spending Review, che ha inceppato ed ingessato in un certo qual senso l'attività del sindaco della città. Certo, in altri tempi, l'ho detto anche in altre occasioni, probabilmente quando la politica incideva in un'altra maniera, quando i partiti riuscivano ad essere i garanti degli amministratori locali e elargendo, secondo la posizione, una serie di risorse, in altri tempi questo sindaco probabilmente avrebbe potuto fare più di quanto ha fatto. Devo comunque ammettere che una serie di attività comunque il sindaco li ha condotte nei limiti di quanto è accaduto. La cosa che io rimprovero a questo sindaco, all'attuale sindaco, a Nicola Cristaldi, è semplicemente il fatto di essersi, come dire, circondato, secondo il mio punto di vista, di soggetti che meritocraticamente non avrebbero meritato di valcare la soglia di questo prestigiosissimo palazzo nella vita. Avevano tante altre cose da fare, bene, avrebbero dovuto fare le cose che sapevano fare. Certamente hanno dimostrato di non saper, come dire, assistere ed amministrare la città ed assistere a questo sindaco che sarebbe, se debitamente assistito, sarebbe stato un sindaco di altra levatura.